Musica Incidente nella mattinata di martedì 23 novembre, poco dopo le 8.30, sulla provinciale 42 che collega Rivara a Busano, all'altezza del supermercato. Sono coinvolte due auto, un Audi TT e una Citroen Berlingo. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri di Rivara. Nievi contusioni per i due conducenti di Forno Canavese o Zegna. Nessuno dei due è stato ospedalizzato. Traffico rallentato. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS